Siamo con Francesco Fusaro per l'analisi del match nella parte Ravenna. Prima abbiamo analizzato la parte Trento con Giulio Pinali. Francesco, questa sera obiettivamente qualcosa poteva andare meglio, non è riuscito. Si aspettava forse qualcosa in più dal match di questa sera. Anche il secondo set in parte è un po' un episodio sfortunato perché si poteva chiudere meglio. Cosa ti senti di dire sul match di questa sera? Sì, al di là degli episodi sfortunati, il secondo set abbiamo dimostrato di poter starci anche contro squadre come Trento. Ci manca secondo me continuità a esprimere questo livello di gioco dall'inizio alla fine del match. È complicato, ci stiamo lavorando duramente in tutta la settimana. Sono sicuro che presto ci toglieremo una soddisfazione. Lo penso anch'io, bisogna sbloccarsi. Adesso c'è il match di Vibo che comunque è un match che a questo punto è molto importante. Bisogna portare a casa qualche punto. Purtroppo, come dice Zanini, ci si allena un po' meno con le partite infrasettimanali, però qualcosa credo che siete in grado di farlo a Vibo. Speriamo nel progresso di qualche fondamentale che anche questa sera, per esempio, la battuta in certi momenti è andata, poi qualche errore di troppo. Anche la tua flotta, che tra te e comparoni, sono armi che bisogna sfruttare sempre di più. Sì, esatto. Dobbiamo cercare di limitare gli errori, come hai detto in battuta. Non possiamo permetterci di regalare punti. Dobbiamo cercare appunto di stare sempre presenti con la testa, tutto il set, tutto il match, per riuscire a strappare un punto o anche la partita questa domenica a Vibo. Perfetto, grazie a Francesco Fusaro e al prossimo match. Tanti in bocca al lupo per il match di Vibo. Crepi il lupo, grazie. È tutto.